Restiamo sull'argomento capolinea a Chiavari con Davide Grillo, Movimento 5 Stelle, già candidato a sindaco dal Comune di Chiavari. Nei giorni scorsi con un comunicato stampa avete presentato un rendering sempre in oggetto al capolinea che ripone come destinazione all'attenzione dei cittadini e dell'amministrazione questa location che è quella del parco a Sarotti per ospitare gli autobus e mantenere un collegamento immediato fra la ferrovia e il trasporto gomma. Un'idea che è piaciuta a molti ma non all'amministrazione evidentemente. A questa amministrazione perché tempo fa andammo io e il sottosegretario Traversi per esempio a parlare con l'allora sindaco di Capua e anche a lui piace molto questa soluzione quindi devo dire che è a questa amministrazione che non piace. Ecco una soluzione che peraltro risolverebbe molti problemi e toglierebbe dall'altro canto molti punti interrogativi a quelle che sono le idee che stanno uscendo in questi giorni. Sì sarebbe una soluzione sicuramente di trasporto integrato ferroviario e su gomma perché in questa soluzione avremo degli stalli che sono accessibili direttamente dalla stazione e quindi usufruibili da tutti. I dubbi che abbiamo sono molti della soluzione che è stata presentata. C'è stato un incontro stamattina e anche stamattina questi dubbi non si sono dipanati. Per esempio Piazza Nasseria è in zona rossa quindi i bagni dei dipendenti, dei lavoratori AMT sono posti in una zona che quando ci sarà allertamento non saranno accessibili. Non solo i bagni, anche la mensa? Anche la mensa, mi metto nei bagni di un dipendente che arriva da Santo Stefano con l'autobus, parcheggia in Piazza Nasseria e poi per cinque ore non ha a disposizione un bagno o un locale dove ristorarsi. Pare che lo stesso punto interrogativo rimanga anche nel capolinea immaginato oggi in Corso Buenos Aires. Qui non hanno trovato evidentemente ancora modo di creare un punto ristoro e anche di servizi igienici. Sicuramente non c'è un punto ristoro e anche quando ci sarà sarà un container con vista a Colonia Fara. Non so quanto sia gradevole alla vista. Detto ciò attualmente si dovrà cercare una soluzione alternativa che sarà quella di chiedere ospitalità a qualche bar nella via. Ci sono dei motivi dichiarati dall'amministrazione a non prendere in considerazione questa vostra idea e soluzione? Sì, sembra che ci sia un comitato che secondo noi è nato quando nel parco a Sarotti c'era l'idea di fare un multipiano. Allora aveva senso avere un comitato perché effettivamente era molto impattante. Ma una pensilina con quattro fermate autobus non disturba assolutamente nessuno. L'altra ragione è una ragione di costi perché l'amministrazione dice che abbia speso un sacco di soldi per rifare una piazza che come vediamo è una spianata di cemento quando invece noi pensiamo che i soldi andrebbero spesi leggermente meglio per la cittadinanza. Torniamo su un argomento invece che è stato oggetto anche questo di un comunicato stampa. Parliamo di alcuni manufatti in uso come magazzino al comune di Chiaveri, probabilmente anche di proprietà, che pare presentino alcune anomalie. Sì, ci sono dei manufatti che sembrano essere ricoperti di Eternit. Metto sembrano ma c'è addirittura un adesivo che dice attenzione Eternit, quindi attenzione a Mianto. Quindi mi aspetto che siano effettivamente fatti da Mianto. Comunque stamattina ho presentato un esposto alla procura ai carabinieri chiedendo di fare le opportune verifiche e ho anche fatto segnalazione all'ASL perché credo che sia opportuno verificare la sicurezza. In primis dei lavoratori che frequentano tutti i giorni quei magazzini. E secondo luogo ci sono anche i cittadini, ci sono persone fragili, ci sono bambini che vanno al centro Benedetta Quarone perché parliamo di locali, siti in via Pio X e lungo il viale del cimitero. Quindi insomma aperti a tutti. Quali sono i rischi dell'amianto? Purtroppo i rischi dell'amianto sono dovuti soprattutto alle polveri quindi quando questo non è manutenuto a dovere, quando è rotto, quando è sgretolato potrebbero portare delle malattie polmonari anche abbastanza gravi. Lei ha fatto un accesso agli atti per richiedere quali sono le reali condizioni di questi due edifici e che risposte ne ha avuto? Ma ha risposto il segretario generale chiedendomi a quale titolo facesse questa domanda che mi ha fatto un po' sorridere. Io ho fatto richiesta perché voglio essere sicuro che quando vado a trovare i miei cari al cimitero di non rischiare di prendermi qualche malattia.